Come scaricare l'ultima versione di Corel Paint Shop Pro? Andate su Google e cercatelo. Appaieranno una lista di siti, noi sceglieremo quello in italiano, il cui indirizzo è www.corel.com. Questa è la home e ad oggi, 23 settembre 2009, la versetta più aggiornata è Corel Paint Shop Pro Foto X2. Come vedete questa è l'intera pagina. Cercate il menu in alto e cliccate su prove gratuite. Eccolo. Qui appaieranno una serie di programmi prodotti dalla Corel, cercate quello per il ritocco delle foto. Cliccateci e apparirà la pagina del download. Qui è possibile acquistarlo, il prezzo è di 69 euro, gli aggiornamenti invece costano 59 euro. Noi scaricheremo esclusivamente la versione prova per adesso. La troverete in basso, scendete con il mouse, come noterete ci saranno diverse schede con la descrizione dei requisiti del programma, i requisiti minimi del sistema. Voi andate su prova gratuita e cliccate su avvio del processo di download. Aspettate qualche secondo, dovrà apparire la finestra del download. A qual punto voi potete cliccare su salvare ed eventualmente scegliere il percorso in cui salvare il programma. Se non dovesse apparire questa finestra, non preoccupatevi, cliccate sul link e la mirror risponderà sicuramente. Aspettate che il download termini, dopodiché potremo procedere all'installazione. Per questo ci vediamo al prossimo tutorial.